Buongiorno a tutti, iniziamo adesso la seconda puntata di Crema on Air, cioè questo approfondimento settimanale su tematiche di attualità. Come sapete stiamo parlando della scuola italiana. La scorsa settimana abbiamo fatto una panoramica generale della situazione, da quest'oggi inizieremo ad approfondire alcune tematiche particolari. Ci accompagna in questi sei sabati, fino alla fine del mese di maggio, ci accompagna suor Anna Monia Alfieri, che è la presidente della Fide Lombardia, che è l'associazione delle scuole cattoliche di Lombardia. La ringraziamo della sua presenza e iniziamo subito ad affrontare una tematica oggi abbastanza particolare, che è quella della libertà di insegnamento e della situazione, della condizione degli insegnanti nelle scuole statali e nelle scuole paritarie, che come dicevamo la volta scorsa sono tutte scuole pubbliche, ma che purtroppo hanno un trattamento molto diverso e per certi aspetti penalizzanti le paritarie. Com'è la situazione, Solmonia? Come dicevamo nella scorsa puntata, quello che manca nel sistema scolastico italiano è proprio la valutazione e la meritocrazia. Temiamo per anni, abbiamo sempre temuto, che valutare i nostri docenti e far sì che anche per loro si inserissero quelle leve appunto della meritocrazia fosse quasi pericoloso. Quindi per anni la scuola è stata vista dai sindacati, ma anche dalla politica, come un luogo identico ad un serbatoio, un ammortizzatore sociale. Così l'ho definito anche in studi recenti. Nel senso che chiunque, qualunque docente si fosse laureato e abilitato con percorsi stranissimi, che erano prima i concorsi, poi erano i TFA, dei più strani, avrebbe avuto diritto ad insegnare e a lui bisognava dare la cattedra. A prescindere che fosse bravo o meno bravo o che lungo la sua carriera fosse bravo o meno bravo, a prescindere addirittura dal fatto che lui docente si trovasse accanto ad un collega che lavorava o meno, avrebbero avuto il medesimo stipendio. Questo è evidente che affonda le sue radici proprio nel concepire in un modo errato il sistema scolastico italiano. Proviamo a spiegarci. Avendo io, stato italiano, violato la garanzia della libertà di scelta educativa dei genitori, è chiaro, a Monte, avendo compiuto questo errore gravissimo, a Valle ci sono una serie di distorsioni. Una di queste distorsioni è proprio la questione dei docenti. Difatti, accanto a questa anomalia che ho appena evidenziato, c'è un'anomalia ancora peggiore. L'offerta dei docenti, in un mercato c'è la domanda e l'offerta, nel sistema scolastico italiano, l'offerta dei docenti, non incontra la domanda degli studenti. Cioè, noi abbiamo assistito negli ultimi due anni, con la buona scuola, all'obbligo italiano dell'infornata dei 150.000 docenti. Lo Stato italiano ha dovuto collocare 150.000 precari. Ma come mai, la domanda più semplice del mondo, come mai in alcune scuole abbiamo avuto le cattedre vuote? Ricorderemo tutti, all'inizio dell'anno scolastico, dirigenti milanesi, romani, di scuole statali, che denunciavano di non avere la copertura per la cattedra di matematica, per la cattedra di diritto, addirittura di non avere il docente di sostegno. Come mai, di fronte all'infornata di 150.000 docenti pagati dallo Stato italiano e quindi dalle tasche dei cittadini, noi avevamo le cattedre vuote? Per questa anomalia del sistema scolastico italiano, che ha portato a due distorsioni gravissime. La prima in assoluto è che docenti del sud e da meridionale posso dirlo tranquillamente, perché così è il sistema scolastico italiano, si sono iscritti nelle cattedre, quindi nelle liste di Milano e di Roma. Per quale ragione? Erano certi che dal sud si sarebbero trasferiti a Milano e a Roma a lavorare? No. Ma erano certi che sarebbero entrati in graduatori e quindi al posto sicuro, al posto fisso prima, con più possibilità. Quando sono stati chiamati dal dirigente scolastico, dichiarato liberamente da loro e dichiarato dai docenti, quindi nessun mistero, la maggior parte ha detto al primo di settembre firmo il contratto, al 2 di settembre però la cattedra sarà vuota, perché con la 104, con il riavvicinamento, con n ragioni e cavilli burocratici alla zecca garbuglia italiana, sono rientrati nel loro paese. Giusto o sbagliato che sia nessuna valutazione? Certamente era una scelta insostenibile. Cioè questi docenti, proprio perché lo Stato italiano ha assicurato loro il posto di lavoro e il posto fisso non si rinuncia, hanno anteposto questa certezza. Certamente uno stipendio da 1000 euro, qual è quello del docente, non avrebbe permesso loro di vivere in una città diversa. Pensate a quale stortura. Ma di contro c'è un'altra stortura gravissima. Allora a questo punto i docenti sono stati presi dalle scuole paritarie per coprire queste cattedre. I docenti delle scuole paritarie ob tortocollo e molti di chi è in ascolto potrà certamente convenire, perché molte figure ministeriali convengono in questo. Peraltro l'ultima ministra l'ha anche dichiarato. Hanno dovuto accettare questi docenti della scuola paritaria ob tortocollo il posto nella scuola statale, perché rifiutarlo avrebbe comportato per loro uscire per sempre dalle gradatorie. Quindi non avere più la possibilità di un posto fisso. Ma di fronte alla crisi che alcune scuole paritarie vivono, perché voi pensate che le scuole paritarie oggi fanno risparmiare, poi lo approfondiremo perché, 6 miliardi di euro allo Stato italiano. Quindi queste scuole paritarie chiedono delle rette che vanno dai 3.000 ai 5.000 euro, perché di queste stiamo parlando, carissimi. Devono pagare degli stipendi che non possono, quelli dei docenti pur con regolari contratti di categoria a raggiungere quelli della scuola statale, hanno un delta di 200 euro, ma soprattutto non possono garantire il posto fisso per sempre. Quindi di fronte a questa incertezza, il docente della scuola paritaria si deve collocare nella scuola statale. Pensate alla gravissima ingiustizia sociale. Ecco, approfondiamo un attimino questo fatto qua, che mi ha lasciato veramente molto colpito. Cioè, un insegnante di una scuola paritaria viene chiamato il 10 di maggio, un 10 di maggio qualsiasi, deve entro l'11 di maggio, il giorno dopo, dire se accetta o non accetta. Se non accetta viene escluso totalmente dalle graduatorie della scuola, non vi potrà più rientrare per tutta la vita. È una cosa che è fuori da ogni logica e da ogni senso di giustizia. Si resta esterefatti a vedere una cosa del genere. Sì, sì, questa è proprio una struttura. Peraltro, i libere sono l'arte e la scienza, dice la Costituzione. Quindi, peraltro, c'è una risoluzione europea sulla libertà di insegnamento. Vengono discriminati, come dicevamo nella scorsa puntata, essendo un sistema discriminatorio, anche, cominciamo a vedere chi vengono discriminati, vengono discriminati i docenti, i quali, a parità di titolo, perché parliamo di docenti laureati e abilitati, che dovrebbero avere la libertà, come avviene in tutta Europa, ricordiamo la laica Francia, di collocarsi e insegnare nella scuola pubblica statale, nella scuola pubblica paritaria, a parità di titolo e a parità di stipendio. Lo Stato italiano, violando la libertà di scelta educativa, a cascata, violerà, e lo dimostreremo nel corso di queste puntate, una serie di libertà. Quella che oggi dimostriamo aver violato è la libertà dei docenti, i quali non possono scegliere se insegnare nella statale o nella paritaria. Per loro sceglie lo Stato italiano, perché per un docente della scuola paritaria chiamato l'11 di maggio, ma le direi che viene chiamato anche in settembre, a scuola iniziata, a ottobre, a dicembre. Spesso scegliere la scuola statale non soltanto per uno stipendio che è maggiore di 200 euro, ma rappresenta la sicurezza lavorativa. Pensiamo a delle famiglie monoreddito. E quindi noi abbiamo assistito a molti docenti che hanno lamentato questa situazione. Come avviene nella Laica Francia? Un docente sceglie, dopo essersi laureato e abilitato, si iscriversi negli albi della scuola statale o negli albi della scuola paritaria. A metà della carriera sceglie se rimanere o cambiare albo. Ed è da questi albi che le scuole statali e paritarie pescano. Quindi la proposta concreta quale potrebbe essere? La proposta concreta sarebbe di questa tipologia. Cominciare a far entrare negli albi, codificare due albi, un albo per la scuola statale e un albo per la scuola paritaria. A parità di titoli, le abilitazioni, i docenti si collocano in questi albi e vengono da questi albi scelti sia per la scuola statale sia per la paritaria. Ma attenzione, la proposta di buonsenso è anche quella di dire cominciamo a far accogliere in questi albi dei docenti nella misura della domanda. Perché ancora oggi noi abbiamo molti docenti laureati e abilitati per delle cattedre inesistenti. E non abbiamo dei docenti laureati e abilitati per le cattedre di cui necessitiamo. Abbiamo bisogno di docenti abilitati nel sostegno e non ne abbiamo. E questo è un gravissimo scandalo in un paese che dice di integrare i disabili. Peraltro, quindi incrociare la domanda con l'offerta e cominciare ad introdurre dei criteri di valutazione di meritocrazia. Grande rispetto per la classe docenti, ma come esiste per la classe dei giornalisti, dei medici, il bravo giornalista, il bravo medico lavora. E così deve essere per i docenti. Quindi noi dobbiamo introdurre criteri quali valutazione e meritocrazia. Non esiste il posto fisso in eterno per un docente sia bravo che meno bravo, capace o incapace o che nel corso della sua carriera scolastica perenne ragioni non è più in grado di insegnare. È evidente. Quindi queste due albi dove gli insegnanti si iscrivono e possono passare da l'uno all'altro. Certamente. Evidentemente con tutta libertà quando vogliono e quando desiderano. Ecco, naturalmente le iscrizioni in questi albi hanno le stesse caratteristiche, le stesse condizioni e la stessa valutazione. Parità di titolo, parità di abilitazione, parità di stipendio. Soltanto se noi vogliamo sanare il sistema scolastico italiano dobbiamo cominciare a porre in fila le questioni. Ricordiamoci che la legge 107 del 2015 aveva in sé il criterio della valutazione della meritocrazia ed è reputo, lo disse all'epoca, lo ridico oggi, scandaloso che il 5 di maggio scesero in piazza quattro docenti con i rispettivi sindacati perché il posto fisso va e quindi il posto in assoluto vale molto di più che la valutazione della meritocrazia e uno stipendio dignitoso perché in Italia i docenti sono sottopagati, vero, rispetto all'Europa, ma ricordiamo che in Italia il sistema scolastico italiano è il più dispendioso rispetto all'Europa proprio per la classe docente. Cosa vuol dire? Che noi in Italia paghiamo il docente di ruolo, il suo supplente e il 15 costa tre volte. Bene, abbiamo affrontato questo problema molto particolare che probabilmente è poco noto all'opinione pubblica. Concludiamo qui questa seconda puntata dei nostri approfondimenti sul tema scolastici con Suor Anna Monia che ringraziamo per la sua presenza e vediamo l'appuntamento per sabato prossimo.